Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con noi, siamo qui oggi con l'apertura della Gretball, ragazzi, Tin. Spettacolare ragazzi, guardate bellissimo l'artwork di queste Tin, a me piacciono un botto. E poi anche da collezione, ragazzi, devo essere sincero, sono molto belle per l'esposizione, quindi ci sta. Come avete visto da sfondo c'è sempre la fedelissima, diciamo, contenitrice di Tinball, eccola qui. Ovviamente ogni volta che tolgo la pellicola deve far sempre tutto giro e pepe, ragazzi, guardate che gira, non finisce mai. Eccola qui, pellicola tolta e abbiamo questa bellissima Gretball, Megaball, vabbè insomma, come vi pare. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno, abbiamo tre pecche più la medaglietta con Sol Galeo, guardate che spettacolo, sembra tipo prismatica. L'appoggiamo qui, richiudiamo la Megaball e la mettiamo qua dietro da sfondo. E questo glielo mettiamo qui davanti sperando che non caschi. E abbiamo tre pacchetti, invasione scarlatta, guardiani nascenti, ombre infuocate, io direi di iniziare come al solito da guardiani nascenti, che è l'espansione che mi piace di meno tra le tre. E vediamo cosa troviamo. Allora, anche perché la carta hyper di guardiani nascenti più, diciamo, rara, no più rara, diciamo, quella più importante è Tapu Lele. Io già ce l'ho, quindi non è che mi interessa più tanto questa espansione. Comunque, trick a quattro, andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questo primo pecche, ricordatevi un bel like come sossegno morale, ragazzi, e andiamo a vedere cosa c'è. Energia. Allenatore. Tentacruel. Allenatore. Bellsprout. Gligar. Geodude Dialola. Attenzione. Patrat. Litwick. Sudo Udo Reverse. Attenzione. L'Eycar Rock GX Full Art 138 di 145, ragazzi, funziona sempre. Ogni volta che insultate il pacchetto che meno preferite, ecco qui, che vi regala una bellissima Full Art. Eccolo qui, attenzione, ragazzi, mi sono un po' emozionato, ho fatto un macello con queste carte. L'Eycar Rock GX Full Art. Spettacolare, a me mancava pure questa. Subito, nella sleeve. C'ho quella Hyper, ma quella Full Art a me mancava, quindi molto bene. Primo pecche, subito una bellissima Full Art che mettiamo qua dietro. Sudo Udo Reverse. Buon, ce la faccio un cacchio, quindi vabbè, lo lasciamo qui. E andiamo con Invasione Scarlatta. È già andato bene il primo pecche, quindi questo secondo pecche non ci darà un grancheggia, lo so. Però vabbè, vai ragazzi. Non abbattiamoci così, non abbattiamoci, non è finita. Trick a quattro. E andiamo con... Attenzione, attenzione, attenzione. Energia. Piloswine. Energia. Mil Tank. Geodude Dialola. Ramorite. Aron. Staryu. Yangmu. Anador Reverse. E attenzione. Mamoswine. Raro. Illustratore Mitsuhiro Arieta. Non lo sapevo. Mamoswine. C'è sta. Forse mi mancava pure Raro. Comunque, lasciamolo qua in sospeso, in stand-by, ragazzi. E andiamo con questo terzo ed ultimo pecca, ragazzi. L'apertura di queste Timbal va velocissima, perché sono solo tre pacchetti e non c'è niente da dire, da raccontare. Posso dire solo questo spettacolo per l'esposizione e basta. Quindi, andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo terzo ed ultimo pecca, ragazzi. Ombre e Fogate. Ombre e Fogate ci deve dare quella carta, ma quella carta non ce la vuole dare. Non c'è niente da fare. Trick a quattro e andiamo con. Energia. Wobbuffet, Charmeleon, Porygon2, Tainamo, Duskull, Inkai, Stafford, Crowbrawler, Scullypad, Reverse, ultima carta. Attenzione. Heracross, raro. Scullypad, Reverse non è male. Questo lo metto nella sliver, perché a mesare Reverse non ce l'ho io. Comunque, raro, Reverse. Dai. Quindi, per questa apertura della Megaball Team Spider, abbiamo trovato una bellissima full art che mi mancava. Like a Rock e GX, quindi sono soddisfatto. E una Reverse che forse mi manca, boh, non so dove controllare. Comunque, per oggi è tutto. Spero il video vi sia venuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Mi raccomando, seguitemi pure su Instagram. Mi hanno scordato di dirvelo sull'apertura della Pokéball. Un altro barra sotto, un mio barra sotto, c per vedere le foto di quello che trovo e che non trovo. E niente, ci vediamo all'apertura della Luxure, porre. Ragazzi, quella è la più importante. E quindi sto sicuro che non troverò niente. La Giamolo Sento, però vediamo. Dipende da vostri like. Quindi niente, per oggi è tutto. Like, suscrivetevi, share e tutto quello che volete.